Signore e signori, la roll dei flex. Guardatela. Pesa e solida. Vivian Dorothy Mayer. Un pomeriggio, due anziane signore passeggiano agghindate e perfette. Le vengono incontro. Lei gli si para davanti e scatta. Mica uno scatto normale. Trasforma la loro eleganza in puro stile kitsch. Secondo voi, quanto ci si può avvicinare ad una persona quanto prima di scattare? Vivian Mayer.